si alza il sipario sul mune i team di valentino rossi incendio a falconara in fiamme la raffineria api a pesaro una fiaccolata contro la guerra in ucraina scuole fondi pn rr a pesaro gradara e monbaroccio giovedì grasso rabachen porta allegria ai bambini pesaresi buona serata a oggi oggi è giovedì 24 febbraio questa sera eccezionalmente apriamo il nostro telegiornale parlando di una notizia di sport perché è stato presentato il nuovo team mune i race di valentino rossi che dal 6 marzo debuterà in moto gp la presentazione è avvenuta al teatro rossini di pesaro e noi abbiamo realizzato delle interviste esclusive che vi mostriamo subito ci troviamo oggi davanti al teatro rossini il teatro di pesaro che oggi ha fatto da cornice alla presentazione del nuovo team di valentino rossi che lo vedrà nelle vesti di proprietario un team che si chiamerà mune i vr 46 racing team e che vedrà sotto l'ala protettiva del dottore quattro piloti due in moto 2 e due in moto gp i piloti in moto 2 saranno nicolò antonelli e celestino vietti mentre in moto gp saranno marco bezzecchi e il fratello di valentino rossi ovvero luca marini per me cambia tanto perché dopo tanti anni non corro più non faccio pilota però negli ultimi anni abbiamo sempre avuto il team in moto 3 moto 2 però quest'anno avremo anche la moto gp siamo siamo molto eccitati perché comunque la moto gp nella moto gp è tutto più grande tutto più di alto livello devi preparare tutto bene però siamo contenti perché nel nostro team ci sono un sacco di persone che hanno lavorato con me negli ultimi anni tanta gente che a cui vogliamo bene tanti nostri amici del paddock e poi i piloti i nostri piloti dell'academy sono tutti molto forti per bezzecchi il primo anno luca il secondo è il secondo però è in formissima si sta preparando bene e penso che sarà molto veloce quest'anno l'anno scorso ho fatto un po di un po di battaglia in gara con vale ci siamo divertiti molto e quest'anno cerchiamo invece di lottare per risultati più importanti insieme sarà molto bello divertente un anno di gavetta ti è servito dunque per rambire quest'anno magari a qualcosa di più importante arrivare magari tra i primi dieci in classifica oppure anche qualcosa di più mettere un target della classifica di campionato è un po presto sicuramente però voglio lottare per per ottenere qualche appoggio durante la stagione anche qualcosa di più il potenziale secondo me c'è sono contento della squadra che ho e anche del supporto di ducati ho parlato tanto con loro e cercheremo di sviluppare al massimo questa nuova moto e di portarla in alto come l'ho stata l'anno scorso e è sempre più difficile perché ogni anno il si alza di di tanto però anche io sto crescendo molto e mi sento pronto fa strano perché comunque io lo vedo ancora come un pilota tempo pieno diciamo vale però sarà anche molto bello averlo nel box qualche gara perché lui ha tanta esperienza ci può insegnare tante cose quindi una bellissima fortuna l'unica aspettativa che cioè di imparare il prima possibile di cercare di mettermi giù col team capire come guidare bene la moto e raggiungere al più presto step by step i risultati che voglio che voglio raggiungere ti piace la moto esteticamente bella bella sì mi piace un po diversa eravamo abituati con sky ad avere altri colori quindi sono contento che l'abbiamo dato una rinfrescata e bella oggi nasce una collaborazione importante perché è nata e quali sono i vostri obiettivi ma è nata per unire mune il brand munei che è un'azienda nuova dinamica creata da noi due anni fa con un team altrettanto nuovo con le spalle forti e larghe come quelle del vr 46 e crediamo sia un progetto molto bello perché corre in moto gp che è la serie numero uno che sappiamo al mondo con dei piloti molto in gamba e soprattutto un team tutto italiano moto ducati team di pesaro e tra pesaro e tavullia piloti italiani e naturalmente sponsor italiano come munei una collaborazione con valentino rossi che proseguirà anche con alcune novità assolutamente sì abbiamo deciso di sviluppare questa partnership nell'ambito di iniziative in pista e fuori dalla pista tra queste appunto abbiamo lanceremo una carta di pagamento munei vr 46 una carta co branded per tutta la fan base di vr 46 per i fan di valentino rossi in generale per il mondo del motociclismo una carta di pagamento che appunto associerà servizi finanziari servizi commerciali e sarà veramente un prodotto di eccellenza ed ora cambiamo completamente argomento una densa nube di fumo nero visibile per chilometri si alzata oggi da falconara marittima in seguito a un incendio scatenatosi nella nota raffineria api il rogo si è sviluppato dalla pompa di uno degli impianti di lavorazione e degli idrocarburi sul posto si sono catapultati ben 18 mezzi dei vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme in meno di un'ora anche grazie ai sistemi di sicurezza che hanno circoscritto le fiamme indagini in corso dei carabinieri per ricostruire l'accaduto così come l'arpan per monitorare eventuali problematiche alla qualità dell'aria tutto il mondo oggi si è svegliato con la terribile notizia del via alle operazioni militari d'attacco russo in ucraina anche la nostra provincia di pesaro urbino reagisce con sdegno alle immagini delle prime esplosioni e a pesaro il comune ha organizzato per domani alle 18 e 30 una fiaccolata statica contro l'invasione a fano invece il sindaco seri ha convocato un ordine del giorno in consiglio comunale contro il conflitto bellico continua il graduale calo di contagi da covid 19 nella nostra regione con 1791 nuovi casi di cui 292 nella provincia di pesaro urbino allo stesso modo continua ad abbassarsi il dato sui ricoveri 13 meno rispetto a ieri per un totale di 260 pazienti in degenza di cui 29 in terapia intensiva 7 i nuovi decessi registrati oggi di età compresa fra 70 e 96 anni i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza ricadono anche sulle scuole sono cinque quelle che si aggiudicano il bando predisposto dalla regione ben tre quelle della provincia di pesaro urbino allora vediamo quali sono nel prossimo servizio non solo edilizia sanitaria e ospedaliera i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza che la regione marche sta per riversare sul territorio arrivano anche sull'edilizia scolastica l'assessore alle infrastrutture francesco baldelli ha annunciato oltre 20 milioni di euro per cinque interventi radicali nella regione marche per quello che riguarda una scuola più innovativa all'insegna di adeguamenti sismici e efficientamento energetico così come di autentiche demolizioni e ricostruzioni cinque scuole beneficeranno dei fondi pnr tre della provincia di pesaro e urbino da gradara a monbaroccio fino a pesaro dove ci troviamo all'istituto comprensivo di villa san martino dove la scuola media manzoni sarà sottoposta a un radicale intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico del valore di circa 5 milioni e mezzo di euro dunque l'istituto comprensivo villa san martino è tra le cinque scuole vincitrici del bando di edilizia scolastica per progetti innovativi sulle 93 candidature pervenute alla regione marche cinque scuole di cui ben tre della provincia cappeggiate dal comune di monbaroccio che ha presentato il progetto meritevole del miglior punteggio in assoluto a villa grande arriverà infatti un finanziamento di oltre un milione e 600 mila euro per l'istituto comprensivo pirandello chiamato a demolire e ricostruire ex novo la locale scuola dell'infanzia un progetto ambizioso che porterà anche un plesso dedicato al nido per completare un pollo scolastico innovativo dal punto di vista energetico entro l'anno 2026 finalmente dopo tanto tempo riusciremo a demolire questo istituto e averne uno completamente nuovo quindi bene un altro passo importante ci voleva è una cosa che mi riempi d'orgoglio e che mi rende felice sia me che tutta l'amministrazione comunale non meno avveniristico il progetto che porterà a gradara 5 milioni 450 mila euro di finanziamenti dal piano nazionale di riprese e resilienza per realizzare la scuola media che il borgo attendeva da anni l'attuale scuola di primo grado lanfranco collocate in via mercato sarà infatti trasferita in un edificio scolastico nuovo di zecca da collocare davanti all'attuale palazzetto dello sport una scuola architettonicamente innovativa mentre quella vecchia rimarrà a disposizione del comune da destinare a nuovo utilizzo restando in tema di scuole ce n'è una della regione marche che ha portato un innovativo progetto di ricerca scientifica all'expo 2020 di dubai in corso in questi giorni vediamo sono luca baricelli sono uno studente proveniente dalle dalla regione marche in italia e siamo qui insieme ad altri ragazzi per presentare i nostri progetti svolti presso la nostra scuola di studi superiore l'IS Galilei di Iesi e abbiamo appunto svolto questi progetti di ricerca scientifica adesso li stiamo mostrando qua all'ESA di dubai che è una un'expo della delle scienze salve a tutti io sono Alessio Petrellini sono un collega di luca baricelli e noi in questa manifestazione abbiamo portato un nostro progetto che si chiama cork è un organic volatile compound e e il nostro progetto praticamente tratta di come il sughero tende praticamente a interagire con questi composti organici volatili e in particolare come il sughero tende ad assorbirli e di conseguenza la nostra quindi ricerca si applica su ambienti indoor quindi come il sughero riesce appunto ad assorbire questi inquinanti di conseguenza migliorare la qualità dell'aria all'interno di questi ambienti oggi è giovedì grasso ma le precauzioni da pandemia per il secondo anno consecutivo hanno annullato lo svolgimento delle tradizionali sfilate di carnevale è così anche a pesaro dove però la maschera cittadina rabbachenne questa mattina è arrivata in carrozza a portare un sorriso ai bambini delle scuole primarie e dell'infanzia oggi 24 febbraio è giovedì grasso ma per il secondo anno consecutivo fra le tante privazioni della pandemia c'è anche quella del momento di festa del carnevale così a fano come a pesaro il carnevale dei ragazzi per la sua 65esima edizione viene spogliato del momento clou della sfilata dei carri e delle allegorie allestite dalle parrocchie cittadine annullare le sfilate per precauzioni da contagio non impone però il divieto di sorridere e così le maschere cittadine di rabbachenne e della signora caniera accompagnate da fagiolino sono salite in carrozza per portare allegria ai bambini delle scuole primarie di pesaro un giovedì grasso sui cavalli delle giacche verdi cominciato dalla scuola primaria cantarini in zona tombaccia dove decine di bambini in maschera hanno atteso l'arrivo di rabbachenne sorrisi balli e pure interrogazioni sulla conoscenza del carnevale e del dialetto pesarese come l'anno scorso purtroppo siamo stati costretti a fare questa questa modalità di incontrare i ragazzi per lasciare sempre un po il sorriso di questi giorni di carnevale purtroppo oggi è successa anche un'altra cosa a livello mondiale però siamo qui a dare un sorriso perché come diceva prima fagiolino ai bambini della scuola elementare di via cantarini il bambino ha bisogno di sorridere quindi di non lasciargli quelli che sono i problemi degli adulti di alcuni pazzi che nel mondo cercano di rovinare la vita noi portiamo nella semplicità questo sorriso quest'anno nelle scuole speriamo il prossimo anno di poterlo fare ancora di nuovo nelle sfilate per le vie della città di pesaro a scuola è un luogo anche di interrogazioni ho visto le domande su chi era rabbachè parecchi promossi direi sì perché si sono ricordati anche di quello che avevamo detto l'anno scorso e anche i bambini della prima elementare questo sapendolo da casa alcuni di loro riconoscevano anche alcune parole in dialetto che purtroppo si perde perché non lo parliamo più nelle nostre case però invece ancora c'è tenendo conto anche di quelle che sono le attività teatrali direttantistiche della zona dove ci sono molte compagnie di teatro dialettale e loro sì riconoscevano chi era rabbachè e chi era cagniera e qual era il significato anche del nome rabbachè e del nome cagniera rabbachè e la signora cagniera si sono poi rimessi in marcia per portare gli stessi momenti di allegria e ottimismo alla scuola dell'infanzia di via togliatti e alle primarie don milani e san giovanni bosco sorrisi che arriveranno anche martedì grasso quando il primo marzo la carrozza di rabbachè arriverà anche alle scuole primarie lubic e carducci domani venerdì 25 febbraio alle ore 18 e 30 all'hotel excelsior di pesaro fratelli d'italia organizza un dibattito dal titolo le spiagge italiane come risorsa della nazione prospettive di un comparto che non deve essere svenduto alle multinazionali incontro al quale parteciperanno i parlamentari nicola procaccini riccardo zucconi lucia albano e i consiglieri regionali elena leonardi e nicola baiocchi domenica a fanno alle ore 11 sarà inaugurato il nuovo polo diagnostico radiomagnetic nella nuova sede sulla strada adriatica 79 zona fosso sei ore da lunedì il centro medico sarà aperto con nuovi servizi innovativi che potrete approfondire poi nello speciale condotto da roberta esperite che rossini tv trasmetterà venerdì venerdì 4 febbraio alle ore 21 e 20 continuano gli appuntamenti del buon non compleanno di gioachino rossini settimana rossiniana che domani venerdì 25 febbraio si incrocia con la rassegna sinfonica 3.0 dell'orchestra sinfonica rossini al teatro sperimentale alle ore 21 debutta il nuovo progetto cenerentola rossini in danza l'artista fanese norris borgoggelli oltre a dirigere i solisti dell'orchestra farà anche da narratore guidando lo spettatore tra le pagine più belle del repertorio lirico del dramma rossiniano a rubare la scena i cantanti saranno i danzatori del corpo di ballo del liceo marconi che si esibiranno sulle coreografie di laura mungherli settimana rossiniana che per la prima volta porterà anche una nuova produzione musicale del roff al teatro della fortuna di fano domenica alle 20 infatti andrà in scena il tancredi melodramma eroico su libretto di gaetano rossi e continuiamo a parlare di appuntamenti perché sabato e domenica a pesaro ospiterà per la prima volta un evento molto particolare all'hotel baia flaminia si randuneranno infatti alcuni dei migliori risolutori del cubo di rubic per sfidarsi nella competizione dedicata al celebre rompicapo la magia e la difficoltà del cubo di rubic arrivano in città per il prossimo weekend sabato 26 e domenica 27 febbraio l'hotel flaminio sarà la location che ospiterà il pesaro open 2022 la competizione dedicata alla risoluzione del famoso rompicapo circa 100 partecipanti provenienti anche dall'estero si sfideranno col tempo per completare il cubo di rubic e le sue diverse forme particolari è un evento del quale andiamo orgogliosi perché ci saranno tanti atleti nella nostra città l'età è dagli 8 ai 30 anni quindi insomma invito se possibile magari anche visitare quelle che è la competizione assistere perché è veramente qualcosa di affascinante e di spettacolare del quale andiamo orgogliosi di ospitare anche questo evento sportivo nella nostra città sono già scadute le iscrizioni e ovviamente diciamo non possono partecipare tutti ma insomma sono atleti quindi veri atleti quindi sono dei professionisti sono dei ragazzi che di sport fanno questa attività presenti a questa gara anche tre giovani pesaresi tra cui giovanni contardi conosciuto per i suoi mosaici artistici con i cubi di rubic e alessandro ricci campione in carica e detentore del record italiano nella disciplina dello square one per i due è una passione nata e coltivata tra amici in età adolescenziale io inizialmente come anche giovanni per via di amicizie ovvero altre persone che risolvevano il cubo di rubic nel mio caso un'amica con cui facevo e faccio tutori giochi matematici che era in grado di risolvere il cubo di rubic e a me non andava genio che lei lo sapesse fare e io no quindi cosa ho detto detto no ce la devo fare anche io quindi ho iniziato così a risolvere il cubo e da lì mi sono interessato a volerlo fare sempre più rapidamente così è nata un hobby una passione e anche per me simile storie in primo superiore mio amico porto il cubo in classe mi insegno a risolverlo in circa un paio di minuti poi da lì mi sono appassionato ho iniziato a partecipare a gare quasi parla del 2009 quindi sono passati 13 anni da quando imparato al cubo quando finalmente abbiamo una gara nella nostra città non c'è un vero e proprio segreto c'è semplicemente applicazione imparare tante mosse e tanti algoritmi che diciamo ci permettono di farlo in meno di 10 secondi e passione perché senza quella non non si è in grado secondo me chiunque può imparare a risolvere il cubo conoscendo il metodo e diciamo non è difficile imparare io personalmente l'ho insegnato a centinaia di persone quindi ecco venire alla gara potrebbe essere uno stimolo in più per intraprendere questa nuova esperienza e chiudiamo questa edizione parlando di sport ieri è stato un mercoledì di turno infrasettimanale di partite per vispesaro e megabox valle foglia vediamo allora come sono andate in questo prossimo servizio il turno infrasettimanale costringe la vispesaro alla seconda sconfitta consecutiva in tre giorni dopo il 2 1 di cesena la vis deve arrendersi alla qualità di un altro avversario ad alta classifica il pescara di auteri che vince al benelli con un gol per tempo apre le marcature cernigò al nono minuto dentro un quarto d'ora con tre legni compresa una traversa di cannavò e due pali per il pescara poi chiude il discorso nel secondo tempo zappella al sessantesimo la verità ci dispiace perché perché siamo stati dentro la partita e il primo gol quando fai il calcio d'angolo difendi a uomo la spiegazione è già quella purtroppo l'abbiamo l'abbiamo difeso non al massimo e però cernigò è un attaccante alto strutturato ci ha fatto gol bene abbiamo messo giù la testa anzi prima di quello erano partiti molto bene con cannavò la traversa i ragazzi erano dentro la partita io l'avevo anche detto sapevo che avevamo speso molto nella gara di cesena quindi non era facile ritrovare la stessa energia però devo dirti come detto tu che siamo stati dentro la partita abbiamo provato anche a proporre qualche cosa nel nostro momento migliore purtroppo è successo il secondo gol la palla è rimasta dentro è un errore si una serie di errori sul secondo gol due errori e purtroppo abbiamo preso il 2 a 0 nel momento in cui i ragazzi comunque ci stavano credendo ci abbiamo provato fino alla fine siamo oggi come oggi dovremmo riposare una settimana però niente dobbiamo aspettare dobbiamo mettere giù la testa e pensare che tra tre giorni c'è un'altra partita difficilissima avversario difficilissimo come l'entella quarto in classifica che domenica farà visita al benelli peggiore degli avversari che ieri sera è capitato pure alla megabox valle foglia che a urbino ha sfiorato l'impresa contro le campionesse d'italia ed europa dell'imoco conegliano la squadra di bonafede ha infatti ceduto alle venete di paola e gonu solo al tie break una megabox maidoma nonostante le assenze di alanco newcomb e l'infortunio in corso d'opera di coschleva è riuscita comunque a vincere primo e quarto set prima di arrendersi al quinto per 11 a 15 eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale carissimi amici però restate collegati questa sera su rossini tv perché come tutti giovedì si parla di carpegna prosciutto basket pesaro in insieme a canestro programma ufficiale della carpegna prosciutto basket di e di rossini tv condotto da marco cadeddu con la collaborazione di giovanni zidda gli ospiti di questa sera sono matteo maggi thomas nobili mi raccomando partecipate scriveteci su whatsapp scriveteci nel nei commenti nella diretta facebook insomma comunicate con noi perché avrete la possibilità di vincere i biglietti per le prossime partite e poi domani vedete daniele sacchi torna alla nostra rassegna stampa alle 7 20 ci sarà lui a leggervi i titoli dei quotidiani locali e domani alle ore 20 il nostro approfondimento dedicato a valle foglia e pian del bruscolo magazine con il nostro edorardo orazzi l'appuntamento è per domani alle 20 ma poi vedete le repliche che arrivano fino a martedì sabato alle 13 30 torna ui pesaro tv un'intervista a marco perugini che è presidente del consiglio comunale non perdetevi questa intervista in cui si parlerà di territorio si parlerà di amministrazione si parleranno dei tanti progetti che verranno appunto raccontati in questo appuntamento e poi domenica il consueto appuntamento quella trasmissione delle dirette delle messe in diretta questa domenica grazie al nostro carissimo giorgio ricci saremo in diretta quindi le nostre telecamere saranno a nella chiesa santa maria regina in borgo santa maria quindi seguite la nostra diretta tv e facebook grazie come sempre per averci seguito adesso c'è per voi il meteo e ci rivediamo i prossimi giorni buona serata